Buonasera, il centro studi Mobility and Behavior, MOBE, nasce dalla collaborazione del gruppo di ricerca dell'ingegneria dei trasporti del Dipartimento di Ingegneria Civile ed ILE ambientale e quello della Psicologia del traffico del Dipartimento di Psicologia Generale. Dal 2018 si sono sviluppate delle collaborazioni frutto di una sinergica integrazione delle rispettive competenze che hanno costituito delle solide e promettenti basi per la nascita del centro. Per il Dipartimento di Ingegneria Civile ed ILE ambientale sono coinvolti il professor Riccardo Rossi, il professor Massimiliano Gastaldi e il professor Claudio Meneguzzer. Il gruppo di ricerca da anni si occupa di analisi dei comportamenti di guida dei conducenti mediante l'elaborazione dei dati derivati dalla loro osservazione diretta, ovvero rilevazione ed analisi di sequenze video relative alla circolazione stradale e, con riferimento specifico al tema della sicurezza stradale, di valutazione dei comportamenti in ambiente simulato. Il laboratorio trasporti dispone di due simulatori di automobile fissi ed uno portatile, un simulatore di bicicletta e un simulatore portatile per il pedone. Per quanto invece riguarda il Dipartimento di Psicologia Generale sono coinvolti il professor Giulio Vidotto, la professoressa Marielle Natalia Bue, il professor Andrea Spoto ed il dottor Nicola Cellini. Il gruppo di ricerca del Laboratorio di Psicologia Quantitativa si occupa da anni, tra gli altri, di aspetti relativi alla psicologia del traffico e all'addestramento alla guida sicura. In particolare, le ricerche svolte presso il DPG si sono focalizzate sulla percezione del rischio e sugli aspetti cognitivi ed emotivi legati alla sicurezza stradale. In questo ambito sono state svolte ricerche legate alla modalità di training che possano garantire l'acquisizione di uno stile di guida sicuro, con particolare riferimento alla popolazione degli adolescenti e alla guida su due ruote. Il gruppo ha inoltre approfondito tematiche relative alle componenti psicologiche e cognitive legate al miglioramento della percezione e della consapevolezza del rischio nella popolazione adulta, intese sia come caratteristiche della personalità che come meccanismi percettivi, attentivi e psicofisiologici. Il laboratorio è dotato di due simulatori di guida di moto. L'obiettivo principale del MOBE è lo studio dei comportamenti di guida finalizzato al miglioramento della sicurezza nei sistemi di trasporto. La creazione di un ambiente di studio integrato ci permette di analizzare il comportamento dei guidatori in condizioni controllate con l'ausilio di una strumentazione avanzata. Uno degli obiettivi che ci poniamo è quello di analizzare ed identificare gli elementi centrali del fattore umano che entrano in gioco nell'interazione tra conducente, infrastruttura e veicolo. Sono proprio queste tre le parole fondamentali per la ricerca del centro. Le tematiche di studio del centro sono principalmente tre. La prima è costituita dalle tecnologie. Sviluppiamo e valutiamo l'efficacia di sistemi di supporto alla guida progettati per ridurre gli impatti negativi di comportamenti errati e o pericolosi sia dal lato del veicolo, quindi sistemi di assistenza alla guida, sia dal lato infrastruttura, quindi segnaletica avanzata, comunicazione infrastruttura veicolo e veicolo veicolo nell'ambito dello sviluppo dei sistemi a guida autonoma. La seconda tematica invece è la valutazione. Sviluppiamo e validiamo metodi per la valutazione delle capacità di guida in soggetti normali e con limitazioni psicofisiche. La terza tematica è legata a educazione ed apprendimento. Sviluppiamo e validiamo metodi per l'accrescimento e di recupero delle capacità di guida di soggetti normali e con limitazioni psicofisiche. Le tre linee di ricerca concorrono in vario modo e misura alla riduzione delle conseguenze sociali ed economiche dell'incidentalità stradale. Il centro si occupa anche di ulteriori tematiche di interesse quali ad esempio Mobility as a Service e i veicoli autonomi. Il gruppo di ricerca interarea è in grado di affrontare in maniera efficace le sfide della mobilità del futuro. Vi ringraziamo per l'attenzione e appena possibile vi aspettiamo nei nostri laboratori.